E quindi di contraltare, siamo veramente alle ultime battute, possiamo dire che la mafia è rimasta rozza e ignorante, dato che mi sembra di capire non abbia questa contiguità con gli ambienti culturali? La mafia sviluppa tutto ciò che gli è utile dal punto di vista scientifico e tecnico per fare più denaro e avere più potere, la cultura è una cosa diversa, la cultura è una cosa diversa dal denaro e dal potere, quindi una grande battaglia antimafia deve essere soprattutto un grande investimento nella cultura, quindi abbiamo certamente dei mafiosi che parlano meglio, che pensano meglio, ma alla fine hanno per sempre bisogno delle pistole.